Queste! Eccole! Signora, hanno bombardato il Napoli, c'è pericolo anche qua da noi. Avete sentito? Bisogna scendere giù, è pericoloso. Com'è fresca. Marco un po' sul collo. Ma quando? No, no, facciamote un'ora. Un'ora. Sì. Non mi guardate così. Noi donne beviamo molto più spesso di quanto non crediate. La maggioranza di nascosto, sì, è sempre vodka o cognac. Alla vostra. Alla vostra. Luce Marianna, da Napoli, giovane italiana. Eh, vice-commissario di Luca. Volevo farle qualche domanda. Ho già detto tutto a quella guardia lì. Stavo portando fuori i bambini, presto, a prendere un po' di odio che fa tanto bene quando abbiamo visto quella brutta cosa. Oh, Gesù mio, non mi ci fate pensare. Che altro sai? Che sei speciale. Carta. Per te. Sono venuto per questo. Ma... Io non ho mai messo soldi da parte. Ho bisogno di te. Fabio, ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Sì, ho bisogno di te. Di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Shhh. Devo ripulirti. Non ti sei accorto che il cibo che porti in casa io non lo tocco? Non ti voglio essere riconoscente neanche per un po' di pasta. Parca. Parca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.